Buongiorno a tutti, Cristian da Ferrara, faccio assistenza a caldai e condizionatori. Sono entrato in questo mondo perché praticamente sono stufo di perdere preventivi da zappinari. Sono un'azienda impropria da 4 anni, praticamente mi trovo davanti a perdere preventivi per 200-300 euro. Ma c'è un mondo di differenza, quindi ho già 3-4 spunti che da domani metto subito in atto. Grazie 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 Grazie